ciao a tutti oggi sono arrivate le fustelle futura premana sono quasi tutte delle novità alcuni restock tra i restock sono tornate disponibili per esempio la scritta auguri la home sweet home buon natale e la natività poi tra le novità la nuova natività e la fustella questa quirena cerbiato e unicorno laghi foglio e altre fustelle alcune artigianali abbiamo la settorata disponibile la lanterna e in formato a4 e come novità c'è in formato xl quindi per chi non ha la big shot plus ma solo la standard va bene con i cutting pad xl quindi può essere usata poi è tornata anche la disponibile la tag formato a4 e c'è questo bellissimo albero formato a4 che è molto visto nei progetti con i paesaggi natalizi e questo bauletto è sempre formato a4 vi ricordo che sono tutte già disponibili sul sito www.martattac.it e potete trovarle in fiera sia a pescara dal 26 al 28 ottobre che a catania dal 16 al 18 novembre vi aspettiamo ciao